Ben trovati amici a casa Rinaldi, l'appuntamento con la musica italiana oggi ci porta a conoscere un duo straordinario con una canzone, ah che ve lo dico a fare, bellissima e non lo dico tanto perché c'è Nicolas qua, no 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 no. Nicolas, ciao, piacere di conoscerti. Ciao Daniela, piacere mio. Allora, lui è Nicolas Belli, intanto fa parte della band Moots, M-O-T-S, perché questo nome, andiamo subito a chiedere. Allora, in realtà il nome è nato perché ad Andrea, che è l'altro fondatore del gruppo, sono sempre piaciuti i nomi di band che avessero un posto geografico nel nome, tipo i Kansas, i Boston, eccetera, eccetera, gli America, eccetera, e quindi visto che io vengo da Modena e lui da Trieste, l'idea originale era quella di chiamarci Modena Trieste e in parte è ancora così, però diciamo che usiamo più spesso la forma contratta, esatto, le due targhe, così è più semplice, insomma più facile da dire. Ecco perché Moots è con una o soltanto e non con due, anche perché magari ce n'è da scrivere, no? Ormai abbiamo inglesizzato tutto quanto. I Moots composti da Nicolas Belli e Andrea Quadrelli, quindi Modena e Trieste, insieme si incontrano a metà strada, un po' di qua, un po' di là, per tirar fuori delle canzoni bellissime, come questa che noi stiamo presentando, vedete dietro il muro, una bomboletta spray, si parla del muro di Berlino, tear down this wall, ovvero abbattiamolo questo muro, no? Quella frase che era venuta fuori, la famosa frase dell'ex presidente degli Stati Uniti Reagan che aveva pronunciato a Berlino nel 1987, abbattiamolo questo muro, che poi è stato abbattuto nel 1989, la storia la conosciamo, ma Nicolas, perché questo bellissimo brano? Come nasce? Allora, diciamo che un po' nello stile Moots c'è quello di prendere argomenti sociali, ecco, ci piace insomma parlare anche di cose che siano un po' più intime, un po' più personali, ma anche molto di cose che riguardano la collettività e non solo l'individuo, quindi diciamo e cerchiamo anche di appunto di parlare di cose che riguardano il sociale. E quindi tra i vari argomenti questa idea venne da Andrea e fu quella di, visto che anche un po', documentandoci meglio, ci siamo resi conto che ci sono tanti muri in realtà, ancora tutt'oggi presenti in varie parti del mondo, che poi sono le varie parti del mondo che citiamo all'interno del test della canzone, abbiamo pensato che fosse un argomento interessante, anche perché poi il muro in realtà, diciamo così, dal punto di vista figurativo può essere anche interessante da sviscerare proprio come argomento, perché in realtà poi le barriere, tra virgolette, che non sono necessariamente fisiche, ma anche solo di pregiudizio, eccetera, eccetera, esistono al di fuori di questi muri. Mi hai infatti giocato una domanda che ti avevo deciso di farti, quanti muri ci sono ancora da abbattere e che tipo di muri esistono, perché un conto il muro come noi vediamo con un martello da abbattere con la forza e quindi magari noi la nostra rabbia la mettiamo nella forza che usiamo per abbattere il muro, ma poi ci sono quei muri invisibili che noi erigiamo e facciamo male a noi stessi prima di tutto. Assolutamente, perché forse sono anche più pericolosi, nel senso che quelli fisici sono brutti, eccetera, però almeno li vediamo, sappiamo dove sono e sappiamo in un certo senso come abbatterli. Esatto, purtroppo quelli legati appunto al pregiudizio e alla chiusura mentale, quelli sono già più difficili da individuare e anche più difficili da combattere, perché sono radicati purtroppo nella storia dell'uomo, ecco, quindi sì, sono molto più difficili. E quindi ci stanno e sono così. Ricordiamo che i Moz nascono, i Moz, nella primavera del 2019 dall'incontro, come diciamo, di Nicola Sbelli in arte Nickel e Andrea Quadrelli in arte Osea. Sono nati in occasione del festival per autori avvenuto a Rimini, quindi vi siete incontrati, come diciamo, un po' più giù, perché Modena siete scesi ancora più giù dall'Emilia Romagno in pratica. Le diverse sonorità che voi esprimete nella vostra musica vi ha spinto poi ad approfondire la conoscenza personale musicale, pensare di unirvi proprio per creare un mood che a me perlomeno piace davvero tanto, perché io vi ho conosciuto in questa canzone e devo dirlo, mi sa subito il loop, perché ha un sound bellissimo, proprio energetico, ne entra proprio nelle corde ed è perfetto. Nell'aprile, no meglio, nel 2020 siete nati, poi è arrivato subito il Covid e quindi vi siete ribloccati. Sì, sì, assolutamente sì, però diciamo che noi… Uno dei tanti muri. Esatto, brava, brava, quello fu un muro. Diciamo che in quel caso, diciamo che fino a quel giorno le mura di casa ci sono sempre sembrate una protezione, da quel giorno ci sono sembrate delle barriere invalicabili, perché purtroppo non ci permettevano di uscire e di incontrarci, nel nostro caso, come nel caso di tante altre persone. Quindi diciamo che ci siamo per fortuna potuti affidare un po' alla tecnologia, forse se fosse successo pochi anni fa sarebbe stato molto più difficile. Oggi, per fortuna, ci siamo potuti affidare alla tecnologia, quindi riuscivamo a lavorare almeno per, insomma, diciamo così, per la creazione, la parte creativa dei testi, anche a distanza. Poi ovviamente per fortuna è finito e ci siamo potuti incontrare in studio per registrare i pezzi, ecco. E quindi di nuovo. E poi nell'aprile dell'anno scorso i mozzi si sono aggiudicati il premio della giuria di qualità al festival di Rimini con il brano Godersi la tristezza. Ragazzi, allora, parlate di muri, parlate di tristezza. La gioia quando viene fuori? Ma allora, ci sono anche brani un po' più allegri, diciamo così. Diciamo che però anche in quelli allegri, d'altà, cerchiamo sempre di metterci qualcosa di un po' amaro. Esatto, di malinconico e di un po' amaro. Perché vogliamo comunque, in realtà, diciamo che tutti i brani, come hai sentito anche in questo, appunto c'è del tiro, insomma, c'è una musica che è abbastanza energica, non sono canzoni troppo, diciamo così, ci sono anche delle canzoni soft, ma non troppo tristi e malinconiche dal punto di vista musicale. Non è una ballad? Non è stile ballad? No, esatto. No, 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 esatto, esatto. Quindi, nonostante gli argomenti siano un po' seri a volte, cerchiamo sempre di stemperare, di drammatizzare con il genere musicale che abbiamo scelto, ecco. Chi dei due scrive la musica e chi di due scrive i testi? Allora, diciamo che di solito il modo superandi è che io butto giù un'idea di musica, di melodia, eccetera, faccio una bozza, una demo, cantate in finta inglese, e poi la manda ad Andrea, che si lascia un po' ispirare da questa cosa, e scrive il testo, ecco. Quindi di solito facciamo così. La voce del duo, quindi Andrea? Esatto, esatto, l'autore dei testi è quasi sempre Andrea, ci sono un paio di canzoni che ho scritto io, ma principalmente Andrea, sì, assolutamente. Ho capito. Allora, adesso che cosa bolli in pentola? Allora, adesso bolli in pentola il nostro secondo EP, abbiamo sfornato il primo EP che si chiama 70.084, circa un annetto fa, e adesso siamo in studio per preparare il secondo, questo è il primo singolo tratto dal secondo EP, e niente, quindi insomma stiamo lavorando a questo in questo momento, abbiamo già registrato diverse parti in studio, ma insomma manca ancora qualcoschino. Allora, vi chiamate Moz, è il primo EP 70.084, quindi ci sono codici. La vostra vita è un codice. Ma diciamo di sì. È un giudice di fare i fibinacci. Anche perché... Esattamente. Perché cosa sta? In realtà sono banalmente le nostre date di nascita, ecco, quindi abbiamo creato un numero delle nostre date di nascita, ecco. Quindi 70 e 84. Avete 14 anni di differenza? Eh sì, sì, c'è un po' di differenza, però diciamo che abbiamo per fortuna più o meno gli stessi gusti, infatti, di musica, quindi insomma ci siamo incontrati nonostante un po' la differenza di età, ecco. Ma sai che non è... Non è... Non è facile vedere un duo con questa differenza di età. Io adesso perché ho visto soltanto te, quindi non ho visto Andrea, perché nel video è un cartoon, praticamente sono disegni, quindi le vostre facce non ci sono. Però non è facile, perché solitamente si vede che sono sempre coetanei, che nascono le amicizie da bambini. Invece 70 e 84, complimenti per davvero e devo dire che poi è un connubio perfetto quello che è venuto fuori. Vi voglio ricordare intanto che in tutti gli stori digitali trovate questo brano. Ricordiamo il nome del duo che è Muz, Modena, Trieste, il codice che ci hanno detto. Tear down this wall, quindi buttiamo giù questo cavolo di muro che è vero. Purtroppo per tanti anni c'è stato che ha diviso una nazione che intanto intanto amiamo e andiamo a visitare la Germania, ricordiamo tutti quanti. E in tutti gli stori digitali, in rotazione radiofonica e soprattutto anche su Spotify. Perché io lo voglio ricordare anche con te Nicola, sa che siamo noi i protagonisti della nostra selezione musicale, quindi grazie a Spotify possiamo crearci le nostre colonne sonore preferite, che sono quelle che ci accompagnano nei momenti importanti della nostra vita. Quindi cerchiamo di farlo, Nicola, dove ti possiamo trovare, come vi possiamo trovare sui social, con quale nick siete? Ma allora, noi siamo presenti un po' dappertutto. Cioè abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, abbiamo il nostro canale YouTube dove mettiamo i nostri videoclip. e quindi insomma su tutti questi social ci potete trovare scrivendo Moz Modena Trieste e ci trovate in qualche modo, ecco, anche solo nella barra di ricerca di Google ci potete trovare. Sì, sono molto digitalizzati, sono molto digitalizzati e su YouTube che ha nominato Nicola, se ricordate di iscrivervi e attivare anche la campanella che così loro quando mettono un nuovo video vi arriva il segnale e quindi lo sapete subito subito quali sono le novità musicali. Nicola, io ti ringrazio davvero tanto di essere stato con noi. Salute Andrea. In bocca al lupo per questo bellissimo brano. Guardate il video, andate su YouTube a seguirlo perché è bello, 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 bello. Ricordiamo Moz Teardown Deez Wall, abbattiamolo questo muro ma anche quello più invisibile che esiste perché un abbraccio con le persone che abbiamo accanto è fondamentale per qualsiasi cosa. Ciao Nicola, un abbraccio. Ciao. Ciao. Un abbraccio anche a te.